Il Palermo entra a gamba tesa nell'affaire Gans e rischia di soffiare il centro avanti al Pescara. Sono le stranezze del mercato, dove tutto può accadere finché non ci sono le firme. La società biancazzurra può sempre contare sulla volontà del giocatore, che ha rifiutato la destinazione Ascoli, preferendo Pescara, per essere al centro del progetto di rilancio del Delfino e giocare in una squadra che con Zeman è votata l'attacco. Insomma, Gans e il rival adriatico potrebbero fare grandi numeri dopo i soli quattro gol di Verona in una stagione da vice Pazzini. L'inserimento del neo-DS del Palermo, Fabio Lupo, può però scompaginare questi piani per il blasone della società siciliana ed anche perché il Palermo stesso potrebbe assecondare le richieste della Juventus, che per il cartellino di Gans chiedeva 2 milioni di euro, mentre il Pescara contava di chiudere sul milione e mezzo, pagabile in tre annualità. Ieri, dopo l'inserimento dei Rosanero, c'è stato un incontro tra la Juventus e la gente del centro avanti, Davide Lippi. Le prossime ore saranno decisive. Dovesse sfumare Gans, il presidente Sebastiani avrebbe un problemone in più individuare un nuovo centro avanti da consegnare al tridente di Zeman quando il più sembrava fatto e le attenzioni si stavano semmai spostando sul cambio di Gans con le piste Tuminello della Roma e Cappelluzzo del Verona sempre vive. Altro colpo di scena ha a che fare con Mamadou Koulibaly. Sembrava fatta con l'Inter, ma la volontà del ragazzo è quella di proseguire il percorso con una prima squadra dopo aver debuttato in A. All'Inter avrebbe fatto la primavera disputando la Youth League. Allora, frenata Inter e inserimento a sorpresa dell'Udinese con tanto di sorpasso a Juventus e Genua. Accordo quasi fatto con il club di Pozzo, con cui lunedì ci sarà un incontro che potrebbe portare all'ok definitivo. Il Pescari incasserà quanto ha sempre chiesto per il gioiellino senegalese. 4 milioni, due di parte fissa più due di bonus. A proposito di partenze, l'Avellino ha chiesto il portiere Mirko Pigliacelli di rientro dal prestito di Trapani. Dovesse partire, resterà in bianca-azzurro Vincenzo Fiorillo. Resta forte l'attenzione del Benevento su Memusciai, mentre ha la valigia pronta Cristiano Biraghi, su cui sembra aver virato decisamente il Chievo, che nei giorni scorsi sembrava invece preferire l'ipotesi Zampano. Quest'ultimo invece può essere un obiettivo dell'Atalanta, una volta definita la cessione di Conti al Milan.